Il cuore delle fan di Kanyaman sta vibrando all'unisono, poiché l'irresistibile attore turco è tornato su Instagram con uno scatto che ha fatto impazzire la rete. Il Divo, amatissimo in tutto il mondo, ha regalato un'istantanea che ha catturato tutta la sua gloria e sensualità in un'unica foto mozzafiato. La breve pausa dalle luci dei riflettori, in occasione dei funerali del suo caro nonno, ha portato Kanyaman nuovamente in Turchia. Qui, l'attore ha potuto trascorrere preziosi momenti con la sua amata famiglia, riunendosi con sua madre Gulten e suo padre Guven dopo un lungo periodo di lontananza. Le immagini mostrano un Kanyaman emozionato e affettuoso con i genitori, dimostrando ancora una volta quanto tenga alla sua famiglia, nonostante le sfide personali. La foto che ha fatto impazzire le fan ritrae Kanyaman a bordo piscina, con il suo fisico statuario e il suo carisma travolgente. La vista spettacolare sul bosforo sullo sfondo aggiunge un tocco di magia all'immagine, creando un'atmosfera da sogno. Il costume da bagno accentua le sue forme scolpite, e il suo sguardo magnetico cattura l'attenzione di chiunque posasse gli occhi su di lui. Non è un mistero che Kanyaman si è ammirato non solo per le sue abilità recitative, ma anche per la sua innegabile bellezza. Ma dietro il fascino e l'appeal di Kanyaman si cela molto più di una semplice star del cinema. L'attore ha sempre tenuto in alto l'importanza della famiglia, come dimostrato dal suo rapido ritorno in Turchia per essere al fianco dei suoi cari in un momento di dolore. La sua storia di coraggio nel lasciare la carriera di avvocato per inseguire il sogno di diventare un attore è diventata ispirazione per molti, dimostrando che con determinazione e passione si possono realizzare anche i sogni più audaci. Il successo di Kanyaman ha attraversato confini nazionali, conquistando il pubblico italiano ed europeo con la serie «Viola come il mare» e stuzzicando l'interesse internazionale con l'attesa serie televisiva «Il turco», in arrivo su Disney e quest'autunno. E non è tutto. I suoi progetti futuri includono persino il ruolo iconico di Sandokan in un remake della celebre serie degli anni 70.